ciao a tutti oggi prepareremo la pasta ricotta zucchine speck il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa gli ingredienti sono olio evo cipolla prezzemolo zucchine tagliate a cubetti pasta corta ricotta speck sale pepe nero e acqua via alla ricetta iniziamo la ricetta cuocendo la pasta in abbondante acqua salata e scolandola al dente mettere nel boccale la cipolla e il prezzemolo ed azionare il bimbi per tre secondi a velocità 7 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere l'olio ed insaporire per quattro minuti 120 gradi velocità 3 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere lo speck ed azionare il bimbi per quattro minuti 120 gradi velocità soft anti orario aggiungere le zucchine il sale il pepe e l'acqua e cuocere con il cestello al posto del misurino per 15 minuti 100 gradi anti orario velocità soft aggiungere il bimbi per 2 minuti 100 gradi anti orario velocità soft trasferire nella ciotola con la pasta amalgamare bene e servire pasta ricotta zucchine speck grazie e alla prossima ricetta ciao 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 Grazie a tutti.